buongiorno ragazze benvenuta alla rubrica della stesura dei colore oggi per voi abbiamo scelto le tonalità di rosa dello smalto gel semi permanente il rosa da sempre è simbolo assoluto di femminilità e della dolcezza si racconta che schiaccia pensieri negativi e porta tanta positività quindi penso che sia colore giusto da applicare sulle mani soprattutto in questo periodo andiamo a vedere insieme il primo colore che si chiama fior di lotto che fa parte della collezione giapponese è un colore rosa pastello molto acceso è come tutti i colori chiari pastelati va steso in diverse passate consiglio sempre due laddove è necessario anche tre lo vado applicare con movimenti molto leggiadri senza creare la pressione in lampada uv led i colori smalto gel semi permanenti servono polimerizzare 5 secondi quindi lo riprendo e faccio già il secondo strato guardate che bello questo colore e lo vado a polimerizzare il secondo colore che abbiamo scelto voi invece è il colore fiesta che è rosa sempre chiaro ma molto brillante in questo momento sto utilizzando il formato 7 ml perché come voi ben sapete tutti colori smalto gel li potete trovare se in formato 14 ml sia in formato 7 ml in modo da poterne avere tutti quanti io consiglio sui colori che utilizzate di più acquistare il formato più grande invece se c'è qualche colore che non sapete se può essere richiesto dai vostri clienti potete prenderlo in versione 7 ml ecco a voi fiesta vado sempre fare due passate sempre polimerizzato 5 secondi nella lampada eclipse uv led 48 watt ecco a voi la seconda passata in questo modo possiamo vedere bene la densità e la stesura ho già coprente e lo vado a polimerizzare in lampada il terzo colore si chiama rosa dea plus è un colore sempre rosa però un po meno acceso rispetto agli altri due andiamo scoprirlo insieme come potete notare colori smalto gel alla prima passata sembrano un po liquidi però subito alla seconda passata risultano molto molto coprenti la loro densità più fluida rispetto agli altri colori è fatta appositamente per lasciare un effetto coprente dall'aspetto molto naturale e sottile quasi come uno smalto classico voilà rosa dea plus dopo ve li metterò tutti insieme per farvi vedere tutte le tonalità l'altro colore che ho scelto per voi invece è frida è un colore molto molto acceso oserei dire quasi fluo e devo dire che in questo periodo anche molto molto richiesto eccola qua guardate che bello queste tonalità fluo quando arriva l'orario di apia o di aperitivo quando il calo e il sole arriva a framonto prendono la luce propria e sono davvero bellissimi anche questo nonostante sia già coprente vado a ripeterlo e farò due passate come vedete estrosa a rose per tutti i gusti dai quelli più chiari ai quelli più brillanti oppure i rosa tradizionali ecco ora che vado a fare la seconda passata così il colore risulta più brillante ecco qui continuiamo fino ad arrivare a Sakura un altro rosa davvero meraviglioso con una puntina di rosso andiamo a vedere insieme la stesura io direi che questi colori sono quelli che in questo periodo nel vostro salone non possono mancare anche qui do la prima passata per poi con seconda tonalizzare al massimo il colore nella mia lampada sempre 5 secondi Sakura ecco a voi la seconda passata è un colore davvero meraviglioso molto forte molto forte e dominante ecco lo sapete che il rosa ha un forte potere rilassante sulla nostra mente? ecco lui rosa pantera rosa pantera è un rosa un po' più scuro non proprio estivo come colore ma tanto amati dalle nostre clienti anche lui 5 secondi in lampada intanto inizio ad estrarre le nostre palettine seconda passata anche per la rosa pantera seconda passata anche per la rosa pantera e la rosa pantera andiamo a polimerizzare e chiudiamo la nostra bocetta quindi a voi fior di lotto fiesta fiesta rosa 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 Sakura e infine il rosa Pantiera. Ed ecco qua le nostre proposte di colori rosa per mese di luglio. Vi piacciono? Qual è il vostro preferito? Scrivetecelo nei commenti. Ciao, alla prossima!